Nei grandi centri occorrono grandi sfide. Play Strong è un torneo live che si sviluppa in un tour di 20 tappe con postazioni gaming dotate di tutti gli strumenti necessari per giocare ad alte prestazioni, adatto a tutti gli appassionati di videogames. Special Guest, l'influencer Wizard Joe, tra i più grandi streamer italiani che ha conquistato il grande pubblico del gaming. Sfida i tuoi avversari e vinci su un vero palco per veri professionisti. Play Strong, sempre. Play Strong. Grazie.